Per chi, come Laimi, ha vestito anche la casacca di Apoel, Gerusalemme e Maccabi Tel Aviv, le emozioni da derby intenso non sono certo una novità, anche se Yuval ammette di non vedere l'ora di affrontare quello particolarissimo contro la fortitudo. Di sicuro sento l'importanza della partita, soprattutto per i nostri tifosi. Già quando giocavo in Israele, quando giocavo per Gerusalemme, quando c'erano le partite contro il Maccabi Tel Aviv, la situazione era più o meno la stessa, è una partita molto importante, per noi è molto importante anche perché tutti ci dicono che l'arena sarà molto piena, vogliamo fare una buona partita davanti ai nostri tifosi, che vedranno sicuramente una squadra che mette in campo tutto il massimo che ha, come fa tutte le settimane. Forlì cercherà di far dimenticare ai propri tifosi la sconfitta rimediata ad Udine, dove la squadra di Giorgio Valli ha pagato a carissimo prezzo il calo di rendimento nell'ultimo periodo, che ha planificato l'ottima prestazione messa in campo in precedenza. La loro fisicità è stata superiore a noi nel quarto quarto, non siamo riusciti a mantenere la fisicità che abbiamo avuto nei primi tre periodi, se l'avessimo fatto avremmo vinto di sicuro, quindi domenica dovremmo riuscire a mezzare la loro fisicità, a pareggiare la loro fisicità, anche se hanno più esperienza di alcuni dei nostri giocatori e di sicuro la squadra metterà tutto sul campo. Grazie. Grazie.